Chiedere al paziente di chiudere gli occhi, di rimanere fermo e di respirare con il naso. Chiedere al paziente di non deglutire durante l'acquisizione e di posizionare la lingua sul palato. Quindi avviare l'acquisizione radiografica, uscire dalla stanza e mantenere il contatto visivo con il paziente per tutta la durata dell'esposizione. Avviare la radiografia con un telecomando. Tenere semplicemente premuto il pulsante di esposizione fino a quando il completamento dell'acquisizione non è indicato dal messaggio sullo schermo rilasciare il pulsante e da un breve segnale acustico. L'indicatore dell'esposizione ai raggi X diventa giallo e si ode un allarme acustico durante l'emissione dei raggi X. Al termine dell'acquisizione, l'interfaccia di acquisizione scompare e le immagini acquisite vengono trasferite automaticamente nella finestra di imaging. Dopo il completamento dell'acquisizione, ritornare nella stanza, rilasciare il paziente e rimuovere la busta igienica dal blocco a morso.